Un ospite, diciamo, giornalissimo, d'eccezione, ma questo suona come uno grande, ma grande non di età, grande perché è un grande musicista. Accogliamo sul palco con un grande applauso, poi lui gioca in casa perché è delle marche Stefano, benissimo, un applauso forte all'organetto Riccardo, compagnoni! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!